Un uomo armato di fucile ha seminato il panico domenica mattina lungo la linea ferroviaria che collega Padova con i comuni dell'Alta. A dare l'allarma è stato un capotreno che lo ha notato mentre camminava imbracciando l'arma. Immediatamente è stata avvisata la Polfer che ha rintracciato un 34enne romeno poco lontano dalla stazione di Vigo d'Arzere. L'uomo aveva un fucile ad aria compressa. Il treno regionale che da Campo San Piero viaggiava in direzione Padova è rimasto bloccato a lungo all'altezza di Campo d'Arsego per ragioni di sicurezza e per consentire alla Polizia Ferroviaria di bloccare lo sconosciuto armato. Gli agenti lo hanno fermato, identificato e sanzionato con una multa di 516 euro. I treni interessati dalla tratta, costretti alla lunga sosta, hanno accumulato ben 15 minuti di ritardo. Per questo il 34enne rischia anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio.